Cinque ragazzi fra i 18 e i 23 anni sono stati denunciati dai carabinieri di Fano in quanto ritenuti responsabili di un pestaggio ai danni di un diciottenne fanese nella zona del Lido nella notte fra il 18 e il 19 giugno. La denuncia è per lesioni personali aggravate in concorso alla quale la procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro ha aggiunto cinque provvedimenti di daspo urbano, vale a dire il divieto d'accesso a tempo determinato nelle zone dei locali del Lido e dell'Arzilla. I fatti hanno ricostruito che il diciottenne aggredito fu avvicinato da un giovane sconosciuto in evidente stato di alterazione che lo accusò di avergli calpestato una sigaretta caduta agli accidentalmente. Un pretesto per attaccar briga perché il diciottenne viene presto colpito da un pugno al volto al quale segue una sequenza di violente percosse ad opera di circa 7-8 persone in compagnia del primo aggressore. La vittima torna a casa ma dopo due giorni si rende conto che la gravità delle ferite impone le cure del pronto soccorso. Così scatta la denuncia ai carabinieri chiamati ad un complesso lavoro di identificazione dei responsabili visto che nessuno degli aggressori era conosciuto alla vittima. Però grazie all'analisi delle numerose immagini registrate dalle telecamere pubbliche e private integrate dalle dichiarazioni di vari testimoni i carabinieri hanno identificato cinque autori dell'aggressione.